Fumata bianca sul tram di Opicina durante l'incontro di Erno a Roma fra il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e i tecnici dell'agenzia Ansfisa. La storica tramvia tornerà in servizio entro la fine dell'anno. Nell'incontro nella sede romana dell'agenzia, oltre al primo cittadino, c'era il direttore del dipartimento lavori pubblici Giulio Bernetti e Roberto Prodan, responsabile tecnico della procedura, il direttore di Ansfisa, Domenico Capomolla, insieme a Pietro Marturano, responsabile della direzione generale per la sicurezza dei trasporti ed impianti fissi e l'operatività territoriale, che coordina le attività di autorizzazione e vigilanza sui sistemi di trasporto e impianti fissi. Presenti anche i tecnici e i professionisti coinvolti nelle operazioni di manutenzione e verifica per la riapertura dell'esercizio. A seguito dell'incontro è stato concordato di procedere al completamento delle lavorazioni già previste e di finalizzare al più presto alcuni interventi, fra cui quelli sul materiale rotabile e quelli sui 10 deviatoi presenti sul percorso, per poter attivare il riavvio della linea in un tempo stimato entro la fine dell'anno in corso. Una volta realizzati questi primi interventi indifferibili, saranno indicate le prescrizioni a cui attenersi per completare tutti gli ulteriori interventi per migliorare il livello del servizio, che saranno programmati con un'attuazione graduale nei prossimi mesi. L'incontro, che si è svolto in un clima di collaborazione e chiarimento reciproco, è stato anche l'occasione per approfondire puntualmente aspetti di natura tecnica e progettuale, funzionali a portare a buon fine l'operazione Trandi Opicina.